Diffondere la cultura della donazione, sia essa di organi o di tessuti. È questo il messaggio lasciato dalla conferenza tenutasi venerdì 17 marzo al Palazzo Celestino Piva di Valdobbiadene. Una serata di divulgazione e sensibilizzazione sull'importanza del trapianto, organizzata dal gruppo comunale Aido di Valdobbiadene, che ha avuto come relatori il dottor Andrea Bianchin, medico dell'ospedale di Montebelluna, e la dottoressa Daniela Vici, della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso. Alla conferenza di battito sono seguite le testimonianze dei familiari di donatori e delle persone che, grazie al trapianto, sono potute ritornare in vita. Una serata di informazione che ha visto una buona partecipazione di pubblico, data l'importanza del tema. Chiunque volesse donare può dichiararlo anche negli uffici del proprio comune di residenza al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, oppure iscriversi all'Aido.